Ciao a tutti, mi chiamo Ferulli Massimiliano e attualmente frequento il Liceo Lugano 2 di Savosa. Lo scopo del mio lavoro di Scienze Gioventù è quello di ricreare l'esperimento della diffrazione di elettroni, ma con un piccolo budget. Inoltre, cerco di rendere il processo di costruzione di questo esperimento accessibile ai ragazzi liceali, i quali, durante la loro formazione, non vengono introdotti alla meccanica quantistica. Un catodo viene riscaldato e per effetto termoionico degli elettroni vengono liberati. Essi vengono accelerati verso l'anodo da una differenza di potenziale e passando dallo strato di grafite vengono diffratti. Il pattern di diffrazione è circolare e questo è dovuto ai cristalli casualmente orientati della struttura policristallina della grafite. Ho proceduto a sviluppare su Inventor i modelli che, una volta stampati, avrebbero sorretto il catodo, l'anodo e lo strato di grafite. Per farli rimanere in posizione si è usato un meccanismo ad incastro e delle spine di alluminio. Per il software Cura3D i modelli sono stati divisi in strati per poi essere passati alla stampante 3D. In laboratorio ho prodotto uno schermo di solfuro di zinco con impurità di rame per visualizzarne i pattern di diffrazione. L'esperimento è costato 74 franchi circa e un possibile miglioramento del prodotto finale è la sostituzione del PLA con l'alluminio per far sì che la plastica a contatto con il chiodo non si sciolga. Per far sì che la plastica a contatto con il chiodo non si sciolga.